Hanno già chiesto la convocazione dell'assessore regionale alla sanità Gucciardi in commissione antimafia dell'ARS, i deputati del Movimento 5 Stelle, che si dicono pronti a fare le barricate contro quelle che vengono definite oscure manovre del governo per le nomine dei direttori generali della sanità. Sono in scadenza di contratto, infatti, tra alcuni mesi, i manager delle ASP siciliane, tra questi anche il direttore generale dell'ASP di Agrigento, Salvatore Lucio Ficarra, e per i parlamentari pentastellati le grandi ed affrettate manovre in corso per la nomina dei nuovi direttori avrebbero un solo scopo, quello di blindare le poltrone che contano per i prossimi tre anni, impedendo di fatto al governo che succederà, quello in carica, di individuare nuove figure per i vertici delle aziende ospedaliere. Noi vogliamo tutte le spiegazioni del caso, non tollereremo alcuna speculazione né deroghe alle regole. Per questo abbiamo già chiesto al presidente dell'antimafia, Nello Musumeci, la convocazione di Gucciardi, sottolineano i 5 Stelle. Per il movimento la fretta è determinata solo da un fatto, evitare di incappare nel semestre bianco quando le designazioni sono di fatto inibite. In soldoni per i pentastellati, sulle designazioni il governo non vuole lasciare carta bianca al prossimo esecutivo. Bruciare le tappe, però, potrebbe causare una serie di problemi perché, a giudizio del Movimento 5 Stelle, significherebbe da un lato anticipare irrazionalmente la valutazione dell'operato dei manager prima della scadenza naturale del loro mandato, dall'altro andare a pescare i nomi dei nuovi manager da un albo vecchio di quattro anni, quando invece si potrebbe procedere alla nomina di commissari in attesa del nuovo elenco. Per il gruppo 5 Stelle all'Arsi il governo regionale starebbe mettendo in campo tutte le strategie possibili per poter piazzare uomini di sua fiducia, distraendo anche l'attenzione dell'opinione pubblica per gettare ombra sulla vicenda delle designazioni. Per ciò che concerne l'ASPA grigentina, il mandato di Ficarra scade la prossima estate, ma se realmente la regione intende accelerare i tempi, anche Ficarra potrebbe avere le settimane contate, a meno che il governo regionale non decida di riconfermarlo, ipotesi questa che appare assai improbabile. Nel frattempo è ancora al vaio del Ministero della Salute il piano sanitario regionale presentato nello scorso mese di gennaio e che ha previsto, come è noto, la classificazione del Giovanni Paolo II di Sciacca come ospedale SPOC di primo livello.